la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati con la nostra rassegna stampa oggi venerdì 26 febbraio partiamo come di consueto con i titoli del mattino vediamo la prima pagina nazionale l'apertura campania allarme terza ondata napoli e la provincia con dati da zona rossa avanti così e tra una settimana arriva la stretta peggiore il quadro 5 regioni in arancione teatri e cinema aperti dal 27 marzo l'ok del cts e poi il vertice tra i leader vaccini draghi sferza l'europa sanzioni a chi taglia le forniture politica la diaspora infinita dei 5 stelle big sotto processo poi sul centro pagina c'è il calcio la vittoria più amara granada k o ma fuori dall'europa league napoli eliminato la rabbia di culibali e poi l'attualità il mio luca tradito da qualcuno molto vicino a noi parla la moglie dell'ambasciatore ucciso in congo che conosceva i suoi spostamenti lo ha venduto io islamica ma tra noi la religione ma è stata un problema leggevamo sia bibbia che corano dice la donna poi di taglio basso anziani disabili e donne penalizzati welfare dopo lo scippo al sud lo scarica barile tra ministeri lasciamo la prima pagina ma restiamo ovviamente sempre sul mattino andiamo a vedere il primo piano è dedicato sempre alle conseguenze della pandemia svolta su cinema e teatri l'ok del cts per il 27 marzo vertice a palazzo chigi il nuovo dpcm conferma le misure attuali fino al 6 di aprile si tratta però sulla cultura in zona gialla e oggi la prima bozza va ai governatori solo domani la cabina di regia dell'istituto superiore della sanità e del ministero della salute e poi il comitato tecnico scientifico metteranno nero su bianco le raccomandazioni per il nuovo dpcm ma come ha spiegato roberto speranza in parlamento d'accordo con mario draghi che ha scelto la linea della massima cautela e prudenza sulla base di dati oggettivi gli italiani non devono aspettarsi alcun allentamento delle misure anti covid anzi anche a pasqua dispetto degli altolà di matteo salvini ci sarà il coprifuoco i ristoranti e i bar chiuderanno alle 6 di sera l'uscire sarà vietato come proibiti rimarranno gli spostamenti tra regioni verso le seconde case se in zona rossa il provvedimento sarà più snello gelmini dice dopo questo passaggio un tavolo tecnico per rivedere tutti i parametri ma vediamo nel dettaglio alcune delle misure previste per gli spostamenti confini regionali blindati il rebus delle seconde case gli spostamenti tra regioni restano vietate se non per ragioni di lavoro salute e urgenza o per raggiungere il proprio domicilio residenza o abitazione questa norma appena prorogata fino al 27 marzo con ogni probabilità verrà inserita anche nel nuovo dpcm che scadrà il 6 di aprile per il tempo libero niente palestre e piscine ristoranti a cina si tratta l'assalto delle varianti del covid che hanno un indice di trasmissibilità superiore al ceppo originario del virus spinge il governo a non allentare le misure antipandemia per questa ragione è stato messo per ora da parte il protocollo che avrebbe permesso di riaprire palestre e piscine già nei prossimi giorni e in merito ai negozi no ai centri commerciali nei festivi e prefestivi il nuovo dpcm non porterà novità sul fronte degli esercizi commerciali i negozi potranno continuare a restare aperti in fascia gialla e arancione mentre i centri commerciali dovranno chiudere nel weekend per evitare assembramenti lasciamo questa pagina proseguiamo cambiamo argomento in questo caso andiamo subito a vedere il primo piano è dedicato purtroppo alla morte dell'ambasciatore Attanasio l'intervista alla moglie Zakhia Seddiki il mio Luca è stato tradito da qualcuno molto vicino la moglie di Attanasio dopo i funerali di stato dice venduto da chi conosceva i suoi movimenti la conversione all'islam noi due insieme partecipavamo ai liti musulmani e cristiani andiamo a leggere Luca è stato tradito da qualcuno vicino a noi e alla nostra famiglia quella mattina la sua era un'operazione che non implicava direttamente il suo lavoro di ambasciatore e ancora stravolta dal dolore Zakhia Seddiki moglie dell'ambasciatore italiano ucciso lunedì mattina in un agguato nella foresta di Virunga in Congo nella stessa imboscata è stato ucciso anche il carabiniere Vittorio Iacovacci ieri dopo i funerali di stato che si sono svolti nella basilica di Santa Maria degli Angeli a piazza della Repubblica a Roma Zakhia si è diretta all'ambiate dove saranno celebrate le seque al telefono la sua voce è straziata dal pianto ma è un dolore lucido questa mattina quando ha parlato l'ultima volta con suo marito l'altra mattina scusate quando ha parlato l'ultima volta con suo marito ci siamo scritti su whatsapp dice lui lo faceva sempre mi ha mandato due foto nel giro di pochissimi minuti 20 minuti dopo mi ha ripetuto la stessa frase che mi diceva quando non c'eravamo insieme ti amo e mi mancate era tranquillo sorridente non aveva nessuna percezione del pericolo e come me e quindi anche nell'ultima foto quella come il carabiniere Iacovacci rimasto vittima insieme a Luca nell'agguato nello scatto sorridono e sorridono e poi continua ci siamo incontrati a San Valentino e mai più lasciati nell'ultimo messaggio la frase che mi diceva se eravamo lontani e poi la religione tra noi non è mai stata un problema alle nostre figlie leggevamo Bibbia e Corano e poi il convoglio stava pagando gli spari all'arrivo dei ranger questo per quanto riguarda la dinamica dell'incidente rapporto dei servizi su quella strada è abituale la richiesta di un pedaggio il conflitto a fuoco è arrivato per un imprevisto ora invece andiamo a dare lettura della prima pagina dedicata a Salerno e provincia l'apertura è dedicata alla pandemia da covid l'anno dei 570 morti terza ondata cresce l'allarme ieri altri 393 infetti a Salerno muore spettrice scolastica il 26 febbraio del 2020 il primo contagio nel Salernitano la biologa di Montano poi 45.000 positivi e poi c'è l'intervista a Luigi Greco errori a catena nella prima fase sempre di taglio alto per quanto riguarda Confindustria Ferraioli leader nel segno della crescita sostenibile di lato invece l'emergenza variante inglese incubo nell'agro nuove restrizioni ed SOS vaccini e poi c'è la solidarietà tamponiamoci con i Rotary 600 test gratuiti nelle parrocchie sul centro pagina c'è la serie B Salernitana senza turnover in campo chi sta meglio alle 19 il match a reggio niente calcoli e ancora c'è il capitolo scuola boom quarantene chiude anche il De Santis in isolamento 55 prof e 45 studenti salti mortali per le lezioni in classe l'allarme dei presidi intanto siamo a rischio serve il siero e la denuncia a bimbi autistici assistenza a ostacoli noi genitori in baria dei burocrati di taglio basso il sindaco che vorrei una figura rassicurante vicina e più deboli Marianna Bassi funzionale pubblica e scrittrice e poi la cittadinanza Charles in fuga da guerra e fame ora si occupa dei rifugiati ora invece andiamo a dare lettura della prima pagina del quotidiano la città l'apertura agenti sul libro paga dei boss soffiate favori e tanti soldi lo scandalo nel carcere di Forni uno prendeva 2000 euro a settimana tre nel mirino e poi di lato vaccini covid altre quattro sedi nei quartieri a Salerno dove c'è boom di case al liceo De Santis chiuso a Rocca d'Aspide invece anziani sui pulmini per immunizzarsi a Montanantili a un primo positivo un anno in trincea poi per quanto riguarda Agropoli ragazza finisce nel profilo hard identità rubata mentre a Deboli Cariello in aula cava parte civile nel processo nel Vallo di Diano poi a Polla chiede il pizzo all'imprenditore preso un 21enne di taglio basso si parla di Salernitana stasera contro la Reggiana esame di battaglia Castori dice polemica su quel 3-0 a tavolino non mi interessa in Serie C intanto si registra un focolaio alla Cavese e la Lega Pro rinvia la gara lasciamo anche la città andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano le cronache anche in questo caso il titolo di apertura è dedicato alla pandemia anzi alle conseguenze della pandemia Salerno chiuso anche il liceo De Santis allarme terza ondata De Luca con altri governatori chiede lo stop alle elezioni in presenza il governo dice no le misure del nuovo DPCM una speranza per cinema e teatri riaperti dal 27 di marzo dopo il virtuoso altra scuola fermata dal sindaco e poi ancora elezione avvenuta all'unanimità ufficiale Ferraioli presidente di Compindustria prete anni ricchi di sfide sempre al fianco delle imprese poi c'è il fatto nel processo Cariello in campo i comuni di Eboli e Cava dei Terreni e per quanto riguarda il calcio anticipo della settimana venerdì Granata a Reggio Emilia per continuare a vincere e noi ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità però torniamo tra pochissimo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco ben ritrovati con la seconda parte della nostra rassegna stampa ripartiamo dal mattino e dalle pagine dedicate a Salerno e provincia andiamo a vedere si parla ancora di epidemia e di conseguenze sulla scuola chiude anche il De Santis boom di contagio e quarantena i presidi dicono siamo a rischio fuori gioco 55 insegnanti e 45 studenti organizzare le classi ora è un rompicapo salti mortali per la didattica in classe vaccini sono la soluzione ma tardano e poi stop al liceo classico dopo il virtuoso la guida è una scelta per la sicurezza Carrafiello sarà meglio tornare subito alla DAD poi a Capaccio Pestum Alfieri ferma tutti gli istituti fino al 6 marzo sono chiuse e didattica a distanza per tutti gli allievi delle scuole di Capaccio Pestum lo ha disposto con un'ordinanza firmata ieri mattina il sindaco Franco Alfieri a seguito dell'aumento dei contagi che si sta verificando nella città dei templi tra i nuovi contagiati dell'ultima settimana ci sono anche diversi studenti di cui la decisione di chiudere a partire da oggi e fino a sabato 6 marzo a Baronissi un alunno positivo niente presenza per altri 500 studente positivo al covid l'aslo chiuso della scuola secondaria di primo grado Villari il sindaco Gianfranco Vial Baliante si dice perplesso sul provvedimento che per la prima volta viene adottato per un solo contagio e condizioni invece circa 500 studenti ieri il dirigente medico del dipartimento di prevenzione dell'aslo di Salerno comunica il primo cittadino ha fatto pervenire al comune di Baronissi alla scuola media Villari il provvedimento di chiusura dell'intero istituto sino al primo marzo e poi i bambini autistici e l'assistenza ostacoli noi genitori soli in balia dei burocrati Savo e Montera le ore tagliate in base all'età e non alla gravità della situazione non è giusto gli avvocati di questa coppia genitori di un ragazzo autistico dice i genitori di Gerardo hanno contattato l'avvocato Michele Capano appunto che si dicono siamo sfiniti non abbiamo più una vita e siamo lasciati completamente da soli avevamo diritto anche alle cosiddette ore sociali una terapia gestita da cooperative per il tramite del comune che prevede il graduale inserimento nella società dei bambini autistici dei parchi giochi ai supermercati attraverso l'ausilio di figure esperte ma lo Stato non si è mosso purtroppo ancora nulla lasciamo anche questa pagina andiamo avanti cambiamo argomento si parla di industria in questo caso una crescita sostenibile per rilanciare l'economia il neopresidente di Combi Industria Salerno investiamo anche in senso di appartenenza nella nostra provincia l'export a retto il punto di forza agroindustria con indotto andiamo a vedere nel dettaglio la forza di un'impresa e il capitale umano ecco perché occorre investire non solo in formazione ma in motivazione e di appartenenza e Antonio Ferraioli neo eletto presidente di Combi Industria Salerno a spiegare uno ad uno non solo quelli che per lui sono i valori su cui deve basarsi la cultura di impresa ma anche il giusto atteggiamento che l'economia locale e nazionale deve avere in questo momento storico affinché si arrivi per aspera ad astra Ferraioli è presidente ed amministratore delegato del gruppo industriale La Doria il primo produttore europeo di legumi conservati di pelati e polpa di pomodoro il suo capitale umano nel gruppo è pari a circa 750 dipendenti fissi e circa mille stagionali e poi ogni ogni crisi ogni momento di difficoltà porta alla luce quelle che sono le caratteristiche prioritarie da cui partire per la ripresa adesso dove si può arrivare secondo il presidente questa è la domanda fatta da uno dei presenti alla cerimonia e il presidente ha detto la maggioranza delle nostre imprese a carattere familiare questo rappresenta un grandissimo valore tutti gli studi confermano che le imprese familiari performano meglio rispetto alle altre ma questo valore si preserva e si riesce a separare e a far prevalere l'interesse dell'impresa su quelli dell'imprenditore e della famiglia ed avere sempre l'obiettivo della crescita quale priorità credo che un modello di relazioni industriali che vede attribuire un peso maggiore alla contrattazione di secondo livello che andrebbe ancora più agevolata con un vantaggio fiscale sia quanto mai necessario per migliorare la produttività e avere un maggior legame dei salari ai risultati aziendali e c'è stata dunque una elezione digitale con voto unanime sinergia con istituzioni e sindacati e poi il leader nazionale Bonomi dice il paese riprende a sognare Napoli avverte ci attendono sfide complesse ora lasciamo anche questa pagina andiamo a dare lettura della pagina dedicata alle aree interne della provincia a sud di Salerno andiamo a vedere per quanto riguarda la cronaca giudiziaria Cariello a processo anche Cava e parte civile i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Salerno accolgono le richieste di costituzione di parte civile dei comuni di Eboli e Cavali Tirreni con gli avvocati Sofia e Farano e aggiornano l'udienza al prossimo 8 marzo l'ex sindaco Massimo Cariello è la prima della partita più importante il processo corrito immediato che lo vede coinvolto come imputato con le accuse di abuso di ufficio e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio in concorso con altri imputati per i quali si procederà separatamente contestati dal PM inquirente Francesco Rotondo della procura di Salerno il dibattimento è durato quasi tre ore è presente in aula il PM Rotondo e Cariello con i suoi legali Cecchino Cacciatore e Costantino Cardiello tra gli scranni Cosimo Pio di Benedetto candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative in programma il prossimo autunno ed Ennio Ginetti ex asexore consigliere dell'Aggiunta Cariello e poi la cronaca nel vallo di Diano estorce soldi con pistole e tirapugni preso 21enne aveva portato via circa 2400 euro in varie occasioni un imprenditore ma è stato scoperto e arrestato il giovane malvivente era riuscito nel suo intento dopo aver minacciato un imprenditore di Atena Lucana anche con armi l'arrestato è un 21enne domiciliato a Polla ma originario di Sanza i carabinieri di Sala Consilina guidati dal capitano Paolo Cristinziano nei giorni scorsi hanno notificato il decreto di fermo per il giovane già noto le forze dell'ordine ritenuto responsabile di assorsione rapine e porto abusivo di strumenti atti ad offendere lasciamo anche questa pagina andiamo a vedere ora lo sport si parla di Salernitana come sempre serie B noi siamo in crescita ora nessun turnover Castori cerca continuità con la Reggiana voglio l'intensità dimostrata contro l'Ascoli ma non dipende soltanto da noi non penso al loro presidente vado al campo a Ottomantovani tandem di Uric Tutino in avanti e a Reggio Emilia Granata contro dopo il 3-0 a Tavolino Beseli in difesa mediana confermata dunque Reggiana Salernitana che si terrà alle ore 19 di domani sabato 27 di febbraio andiamo a vedere la formazione che è in mente mister Castori Adar Monis in porta Aia Gionberra e Beseli in difesa poi in mediana Casasola e Giarosischi sugli esterni in mezzo con i balidi tacchi e capezzi poi tandem d'attacco come già accennato composto da Tutino e Diuric di fronte ovviamente come già sottolineato ci sarà l'Ascoli e ci sarà la Reggiana scusate poi sempre per quanto riguarda il calcio c'è il pericolo covid lo spauraccio covid che avessi in isolamento rinviate almeno due gare saltano le trasferte di potenze di terni focolaio in aumento 23 contagiati 15 calciatori 8 tra staff e dirigenti questo per quanto riguarda la serie C e con lo sport si conclude questa nostra rassegna stampa io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata grazie a tutti